10 100 sinistra 5 per destra 4 in sinistra 5 destra 5 20 destra 4 più ai 40 dosso e poi altri 100 non mollare al muro sinistra 3 in destra 4 al palo diventa 3 per piega destra per sinistra 5 in sinistra 5 meno in destra 3 taglia tutto 80 sinistra 4 sinistra 4 in destra 5 sale 20 destra 3 taglia per sinistra 5 vai 10 per sinistra 5 vai 10 sinistra 4 e vai 30 destra 5 in sinistra 5 20 e destra 4 meno si poco in sinistra 5 in piega destra in sinistra 5 in sinistra 5 per destra 4 scivola 100 destra 4 diventa 3 chiude 30 ritarda sinistra 3 meno meno chiude 2 alla fine 30 destri sinistra 5 credi ci stringe in uscita per piega destra vai 20 destra 3 per destra 5 in sinistra 5 per destra 5 in attenzione sinistra 2 a prelunga non tagliare per destra 3 meno lunga e subito a sinistra 3 scende 20 destra 3 per piega sinistra per attenzione destra 3 allo specchio diventa 2 20 e attenzione sinistra 2 non tagliare 30 destra 5 credi ci piena 20 attenzione destra 2 sale no 30 allo specchio in vivio sinistra 2 30 meno 5 destra 5 piena per sinistra 5 lunga lunga 20 attenzione Shikam con ingresso a destra per destra 4 si 100 all'ultimo albero attenzione inversione sinistra destra 5 in sinistra 5 in piega destra lunga attenzione all'ultimo palo destra 3 meno sconnessa vai 40 sinistri destra 3 tieni per sinistra 3 per sacrifica per sinistra 3 per sacrifica destra 3 diventa subito 2 sul vivio in piega sinistra per arrosso sinistra 4 meno tieni e attenzione destra 2 sporca ripeto destra 2 sporca apre 5 dosso in sinistra 4 lunga lunga credici alla fine tieni in destra 5 in sinistra 4 in destra 4 su dosso 30 e al palo sinistra 3 sporca 20 destra 5 non tagliare in destra 3 meno meno chiude in sinistra 4 meno e destra 5 scende e alla chiesetta occhio destra 2 per sinistra 5 per destra 3 in sinistra 4 diventa 3 per piega destra 10 destra 5 vai 10 attenzione destra 3 subito scende destra 4 per sinistra 3 meno non tagliare 10 piega destra lunga 30 destra 3 scende 20 destra 4 più lunga in attenzione sinistra 2 butta in destra 2 no 100 attenzione sul ponte sinistra 3 meno chiude in destra vai 40 dosso in piega sinistra e vai 20 sinistra 4 più due tempi vai non mollare per destra 5 per sinistra 4 più vai 50 tieni destra sinistra 4 per destra 4 e sinistra 5 30 destra 5 apre in sinistra 5 vai 100 sinistra 5 vai 100 destra 4 meno per sinistra 4 più per sinistra 4 più per destra 5 sale 20 sinistra 5 40 e allo schecchio in bivi occhio sinistra 2 occhio sinistra 2 meno 10 piega destra diventa destra 2 in sinistra 3 sacrificala 20 e in bivi attenzione destra 1 piega destra in sinistra 5 per piega destra in bivi attenzione sinistra 1 diventa 3 vai per destra 5 sudosso 30 non mollare destra 5 per piega sinistra per destra 4 meno in sinistra 4 meno meno stai sotto e subito destra 2 apre subito destra 2 apre in piega sinistra vai 40 sinistra 5 e attenzione destra 2 30 sinistra 1 subito destra 1 due tempi e in versione sinistra leva vai 50 attenzione destra 2 no in piega sinistra in sacrifica destra 5 in sinistra 3 apre per sinistra 3 stai sotto 10 destra 2 chiude in sinistra 2 chiude per destra 5 vai 40 sacrifica piega destra per sinistra 3 meno butta al palo 100 al palo destra 3 tieni destra 3 tieni in piega sinistra 10 destra 4 lunga lunga credici poco 40 destra 4 e sinistra 3 apre tieni per piega sinistra per destra 5 è su ponte piega sinistra lunga lunga vai 40 tieni destra ritarda sinistra 3 tu ne poco stai sotto 20 per piega destra lunga e attenzione chicane con ingresso a destra alla casa sinistra 4 in destra 5 30 sinistra 4 20 attenzione sinistra 2 stai sotto 250 a vista vai non mollare 7 43 bravo